Ultime notizie del giornale radio, la polizia dopo un conflitto a fuoco con il ricercato Gennaro Esposito è riuscita ad intrappolarlo in un cascinale di Aversa, ogni tentativo è stato vano per indurre alla ragione il feroce criminale. Meno sangue stavo rite, che stavo superdute, ma non l'ha già va a sapere. Gennaro Esposito, arrediti, non hai via di scampo! Solamente a questo parte, mi amarendo se volete. Si chiamata mamma mia, è l'accompagnata che... Non sparare Esposito, sta entrato tua madre! Siamoci la mia, è l'accompagnata che... Voleva so che stai capendo l'aiante, non fa bene se sto scurcando i sangi, sto l'ultima dolore ad aggiornare. Adesso stai stupendo malamente per un viaggio senza che ho ritorni, prego per me che ho restato io docivo, se ho prego tu mi s'ha perdonato. Adesso stai stai capendo l'aiante, non fa bene se stai capendo l'aiante, non fa bene se stai capendo l'aiante. Perdona la stoviglia delinquente, castumo mendicò mano creatore, non fa paura, non fa paura di tutto questo scuro. Ma che stai capendo l'aiante, non fa bene se stai capendo l'aiante. Ma che stai capendo l'aiante, non fa bene se stai capendo l'aiante, non fa bene se stai capendo l'aiante. Ma che stai capendo l'aiante, non fa bene se stai capendo l'aiante.